ciao a tutti ragazzi e bentornati nel canale oggi dopo tantissimo film un video shopping su pinterest ovviamente shopping virtuale quindi andiamo a fare dei download e in questi video se siete nuovi sul canale quindi non sapete cosa vado a combinare vado diciamo a scegliere un tema in particolare poi vado a scaricare dei materiali tramite pinterest per appunto the sims 4 dovete sapere che questa parte in cui adesso io sto parlando al di sopra della registrazione schermo che voi ti state guardando la sto registrando dopo che quindi ho già filmato la parte in cui ho provato tutto quello che ho scaricato su the sims 4 ora piccola anticipazione se mi conoscete sapete che io sono un epic fail vivente però questa volta io vi dico che non è colpa mia sono successe varie cose e se insomma per un motivo per l'altro diciamo che molti molti materiali hanno avuto dei problemi diciamo che ci sono dei disagi non voglio spoiler armi troppo quindi adesso ci spostiamo su the sims 4 e vedrete la registrazione che ho fatto praticamente insieme a voi quindi contemporaneamente mentre guardavo nel gioco parlavo quindi raga spostiamoci su the sims e vedete tutto quanto ok raga qui clicchiamo no grazie incrociamo le dita e vediamo un attimino se tutto ciò che abbiamo scaricato c'è nel gioco innanzitutto vediamo lo sapevo che partiva con un maschio va bene ok mettiamo una femminucina ok lasciamo lei tolgo il tutto raga l'unica cosa che mi dà estremamente fastidio devo mettere la pelle quella lì la peach soft peach skin perché non usisco altrimenti le cambio anche i capelli e poi tutto il resto va benissimo vediamo che capelli posso mettere dei capelli che magari non metto da tanto questi qui erano di ariana non lo so anche questi sono belli non lo so perché sono tutti estremamente belli allora 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 andiamo su contenuto personalizzato e vediamo un attimino cosa c'è scaricato vado sia su parti superiori e lo vado a mettere anche a corpo intero quindi contenuto personalizzato e partiamo di qui vediamo un pochino vediamo un pochino qui abbiamo le solite cotucce di Halloween già scaricate questo l'avevo già scaricato un po' di tempo fa giusto ecco che manco si vede va bene me ne sto andando nel panico vi dico che me ne sto andando nel panico ma è possibile che ah ecco il pigiamino allora partiamo con i pigiamini abbiamo questo qui nero con gli elfi e le pigne le varie cosucce questo qui con base blu scura e tutti i vari elementi comunque famosi del natale come babbo natale con la vestaglia perché la vestaglia babbo natale vabbè e le palline candy cane happy new year ma vabbè mi sa che è il modello dell'anno scorso gli alberelli un po' di nivo vediamo questo che questo è il mio preferito sì 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 perché alla trama tipo di un maglioncino ci sono gli uomini di pan di zendero i candy cane alberelli i fiocchini oh mio dio io amo tutto ciò e guardate notate quanto cavolo sta bene questo colore rosso sulla pelle scura raga mamma mia adoro follemente infine questo pigiamino bianco no in realtà è tipo grigio e diciamo che dà un effetto molto freddo color ghiaccio infatti c'è la renna riprende un po' le neve c'è un gufetto una volpe vabbè insomma e sì non ha niente di speciale ecco di qui giusto gli spacchetti e va bene dai quindi pigiamini approvati soprattutto ripeto su di lei quello rosso pazzesco e torno sopra giusto per controllare perché non ricordo se ho scaricato qualcos'altro a corpo intero boh sembrerebbe di no raga sembrerebbe di no questi qui li avevo già boh forse li avevo già va bene andiamo a parti superiori iniziamo a cercare allora iniziamo subitissimo con i maglioncini raga i maglioncini natalizi dai bellissimi abbiamo lui questo qui cambia la trama no la trama è sempre la stessa ah no no cambia cambia ok abbiamo delle trame simili raga questo non mi fa impazzire sembra un tappito va bene questa qui questa sul blu no il verde petrolio questa è la più natalizia secondo me e poi abbiamo questa qui ok tra queste quelle che mi piacciono di più questa qui e questa qui quindi la prima scendiamo vediamo cos'altro sono riuscita a scaricare se non sbaglio dovrei trovare una camicia se non sbaglio vediamo un po vediamo un po raga se non mi ha scaricato nient'altro raga ma dove sono tutte le altre cose che ho scaricato ma stiamo scherzando no ho visto male cioè ho visto male oppure mancava la mesh cioè ho scaricato un botto di roba raga non scherziamo mi sto concentrando un attimino solo questi qui li avevo già visti che ora che erano presente impanicata impanicata perché non trovo nulla non so come fare andiamo un attimino a parte inferiore vediamo un po se c'è qualcosina mi sembra tutto veramente abbastanza strano perché non è possibile io nella cartella sono sicurissima di aver inserito dai cinque ai sei contenuti personalizzati ah ecco ecco vedete però io ho scaricato sia la gonna che il top levo un attimo il top e vado a cercare meglio quindi abbiamo la gonna natalizia quindi classica di babbo natale poi ce l'abbiamo verde blu oro fucsia nera grigia che in realtà simula più che altro l'argento il rosa bello rosa celestino viola bellissimo e no allora raga deve stare in parti superiori per forza il topino ma scusate ecco poi intanto passano le macchine che fanno cassino no c'è qualcosa davvero che non va che fa mi scarica la gonna ma e non mi scarica il topino non è che questo no e no questo fa parte dell'altro contenuto ragali vita mi ha scaricato la gonna ma non il topino ma boh non vorrei che finito qualcosa qui contenuto personalizzato di degli accessori no raga ma non è possibile sono sconcertata sconcertata non c'è nulla ma di che cosa stiamo parlando io ho scaricato il set ma sono scema io che non vedo tutto ciò non vorrei che no non è uno di questi contenuti che non si vede oh che stress raga che stress e quindi adesso io non posso nemmeno mettervi il contenuto personalizzato raga video epic fail video epic fail io ormai sto registrando cioè non è che lo cancello video epic fail però insomma vabbè il primo ce ne saranno molti molti altri quindi non preoccupatevi è giusto per farvi vedere scusa si hai un bel faccino però non lo so voglio vedere anche qui se c'è qualcosa dicevo ce ne saranno molti altri questo qui è giusto per iniziare di nuovo la nostra rubrica in cui scarichiamo delle cosucce dal da pinterest qui appunto non c'è niente vedo anche qui e quindi se non vi preoccupate perché a dicembre iniziamo per bene con molti più materiali però insomma volevo iniziare ad avviare la serie con con i contenuti natalizi perché comunque tra una settimana sì no per una settimana mercoledì mercoledì e dicembre raga quindi va bene nulla e quindi raga con questa simmina solamente con una gonna indosso io vi auguro una splendida giornata e fate buono shopping perché oggi è black friday mi raccomando raga vi ricordo anche che sul sito di neba ci sono tantissimi sconti con il black friday quindi se volete acquistare the sims io vi consiglio di acquistarlo in questi giorni e mettete il mio codice sconto leaf così avete un ulteriore sconto del 5 per cento quindi nulla raga io come sempre spero che il video vi sia piaciuto vi mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video ciao